Ciao ragazzi qui Alessandro Ventivoglio, Funnel Machine ed in questo video vi voglio fare un'introduzione a ClickFunnels e a quelle che sono le sue funzioni partendo proprio da qui, da quella che è la dashboard di ClickFunnels appena si effettua il login questo vale sia se hai ancora un account nuovo o se hai un account già esistente quindi ti mostrerò quelle che sono un po' le varie possibilità che ci sono qui sulla dashboard di ClickFunnels e tutte le sue funzioni allora come vedete qui diciamo proprio all'entrata abbiamo sulla colonna di sinistra una bella foto che hanno messo i miei colleghi qui per prendermi in giro quando ancora avevo i capelli lunghi e qui adesso a parte gli scherzi sulla colonna di sinistra ci dà un po' di informazioni riguardanti quello che è tutto il nostro account in generale di numero di contatti, visitatori, pagine e funnel che abbiamo creato all'interno del nostro account ClickFunnels poi abbiamo una parte che riguarda i nostri premi quindi ci sono un po' dei badge che vengono rilasciati ogni volta che vengono fatte determinate azioni all'interno di ClickFunnels poi ci sono i guadagni praticamente effettuati attraverso il programma di affiliazione di ClickFunnels e quelli che sono i link che possiamo utilizzare per promuovere a nostra volta l'account ClickFunnels e quindi puoi guadagnare le commissioni qua c'è l'accesso a delle appunto di programmi a delle membership di formazione di ClickFunnels sempre in inglese e qua c'è praticamente un riepilogo di quelle che sono le funzioni che noi abbiamo attive all'interno del nostro account ClickFunnels perché ci sono diverse tipologie di pagamento ma questo lo vedremo poi in un altro video dove appunto avremo la possibilità di avere ClickFunnels e le altre funzioni che adesso ti spiegherò questo sulla parte sinistra, sulla parte centrale abbiamo un po' il riepilogo di quello che abbiamo guadagnato, di quello che è successo in questo periodo e quelli che sono alcuni link importanti in questo momento che possiamo anche disattivare a nostro piacimento e quindi ci sono comunque fondamentalmente degli eventi, delle membership di ClickFunnels sulla parte di destra abbiamo invece le statistiche di tutto il nostro account e quindi qui andiamo a vedere quella che è la situazione settimanale e giornaliera delle varie attività quindi di quanto abbiamo guadagnato, della quantità di acquisti, opt-in e page view che sono appunto state effettuate all'interno del nostro account da qui abbiamo anche la possibilità di creare un nuovo funnel quindi andando su new funnel da qui possiamo appunto creare un nuovo funnel allora abbiamo due possibilità o partire da un template già esistente quindi qui all'interno di questa schermata ci sono tantissimi template già precaricati oppure possiamo andare a scegliere un funnel nuovo quindi possiamo scegliere tra tre tipologie quindi collect emails, raccogli email e quindi ci dà subito la possibilità di inserire il nome e la categoria quindi una sorta di categoria sotto la quale vogliamo raggruppare il nostro funnel e andare avanti oppure torniamo indietro e selezioniamo sell your products quindi vendita di prodotti a questo punto abbiamo altre tre tipologie che sono funnel di vendita funnel di lancio di un prodotto quindi quello classico a tre video e membership dove possiamo appunto proteggere quelli che sono i nostri contenuti diciamo dei nostri corsi online da tutti che abbiamo host webinar e quindi possiamo creare un funnel per diciamo appunto raccogliere visitatori per il nostro webinar sia in diretta sia in replay ok? questa è per la creazione di funnel praticamente da zero vuoti sono dei velocissimi template ma sono abbastanza standard e questo è il classic funnel builder quindi cliccando qua ci si apre questa schermata io personalmente uso molto questo però sotto qui ci sono anche altri template quindi potete andare a selezionare quelli che sono template in base alla diciamo alla tipologia di funnel che vogliamo andare a creare in quel momento e selezionare template chiaramente da qui possiamo vederli possiamo andare a vedere quelli che sono le varie pagine c'è anche una breve descrizione c'è un breve video di Russell che spiega un po' per quale motivo noi dovremmo creare questa tipologia di funnel e qui ci sono tutti i template alcuni gratuiti altri a pagamento che possiamo appunto anche comprare per creare quello che è il nostro funnel ok? quindi qua è tutta quanta la parte che riguarda la creazione di nuovi funnel adesso quello che vi voglio mostrare invece è tutta la parte del in alto quindi del menu in alto allora vedete qua in alto ci sono delle voci allora ClickFunnels è la prima parte la prima voce di menu che incontriamo e che è proprio la parte che riguarda la creazione dei funnel e quindi su funnel avremo l'elenco dei nostri funnel contatti sono tutti i contatti che abbiamo raccolto all'interno del nostro account vendite funnel marketplace è proprio il marketplace cioè il posto dove possiamo acquistare altri template e questo è quello che abbiamo visto prima build funnel quindi crea un nuovo funnel partendo da un template o da zero quindi ClickFunnels è tutta la parte di creazione funnel ed è il cuore dei ClickFunnels ve lo faccio vedere velocemente andiamo su funnel che è insomma la parte più importante perché contiene l'elenco di tutti i nostri funnel che abbiamo creato e quindi qui vedrete proprio l'elenco di tutti i funnel presenti all'interno del nostro account per appunto vedere cosa succede poi e la modifica e creazione dei funnel questo lo vedremo in un altro video ok andiamo avanti Actionetics Actionetics è tutta quella parte che riguarda le email e le automazioni email le liste che possiamo andare a creare e le broadcast quindi la gestione dei nostri contatti le liste che possiamo andare a creare cioè i contenitori che contengono i contatti in base alle azioni che hanno compiuto all'interno dei nostri funnel broadcast che sono tutte quelle email che inviamo nel momento in cui noi decidiamo cioè come quando io invio una mail ad un mio amico la broadcast la scrivo in questo momento e la mando allo stesso momento a tutta la mia lista tutti i contatti presenti nel mio account gli action funnels invece sono le automazioni cioè tutto quello che succede nel momento in cui una persona compie un'azione lascia un indirizzo email e in automatico io vado a definire quello che accadrà proprio a quell'utente follow up funnels è un po' come gli action funnels però composto da altri elementi che possono essere altre tipologie di comunicazione bot e così via backpack invece è tutta quella parte che riguarda gli affiliati cioè dare la possibilità a nostri clienti di rivendere i nostri prodotti e guadagnare commissioni sulla vendita dei nostri prodotti e questo è tutto quello che appunto riguarda questa parte qui help invece è la parte di documentazione e una cosa molto interessante è what's new chiaramente ragazzi clickfunnels è ancora in inglese presto sarà in italiano ma questo ancora non ci è dato sapere quando sarà esattamente tradotto comunque qui abbiamo tutte le novità quindi tutte le cose che vengono rilasciate da clickfunnels e quindi possiamo andare a vedere tutte le nuove funzionalità torniamo indietro quindi abbiamo visto documentazione e anche la possibilità di richiedere supporto quindi cliccando su get help qui si può andare a richiedere supporto al nostro appunto team di supporto di clickfunnels e da qui possiamo chiedere qualsiasi cosa chiaramente in inglese ma ragazzi con il traduttore oggi in caso di necessità si può fare qualsiasi cosa poi da qui abbiamo delle notifiche se ci sono delle notifiche di qualcosa che viene riscontrato all'interno del nostro account e poi finalmente dove c'è la mia foto con i capelli lunghi ci sono tutte le impostazioni dell'account che sono quelle cose che vanno fatte la prima volta che si crea un account proprio per impostare impostare il nostro account tutte quelle impostazioni di base che poi ci rimarranno lì e ci serviranno per la costruzione di tutti i nostri funnel quindi possiamo andare a vederlo account details contiene per esempio le nostre informazioni su quello che è il path del nostro account clickfunnels il profilo, la password la wordpress API quindi se integriamo clickfunnels con il nostro wordpress con un plugin questo lo vediamo anche in un altro video e qui troviamo la nostra chiave API e tutte altre tipologie di impostazioni poi qui abbiamo account billing quindi tutta la fatturazione del nostro account e vediamo anche quando scade mi raccomando state attenti quando scade l'account perché bisogna andare a rinnovarlo almeno insomma se non avete un piano di abbonamento mensile comunque bisogna stare attenti a rinnovarlo e le informazioni di pagamento per quanto riguarda le fatture la fatturazione dei pagamenti di clickfunnels bisogna richiederlo al supporto quindi di volta in volta potete andare qui nella sezione dedicata per la richiesta di supporto e chiedere la fattura specificando tutti i dati di fatturazione questa è una nota in più che vi faccio poi ci sono i template le notifiche i digital asset che sono dei pdf dei documenti che possiamo caricare fino a un massimo di 3 mega e poi ci sono le integrazioni queste sono le integrazioni che possiamo creare tra clickfunnels e software esterni ed è una delle parti più importanti di clickfunnels perché al di là di quelle che sono integrazioni generiche ma la cosa più importante è ovviamente payment gateways numero 1 dove andiamo ad aggiungere tutti i nostri sistemi di pagamento che in questo caso io vi suggerisco paypal o stripe quindi cliccando su add new payment gateway andiamo appunto a vedere quelli che sono i pagamenti sistemi di pagamento disponibili ok quindi i più utilizzati sono chiaramente paypal e anche stripe dopodiché altra integrazione molto molto importante è appunto la configurazione email e quindi gli account smtp perché clickfunnels non si occupa lui dell'invio proprio fisico della post delle nostre email ma si appoggia a dei server smtp esterni ma anche questo lo vediamo in un video a parte specifico comunque questa è la sezione per la configurazione degli account smtp e server che poi vi spiegherò che cos'è cioè il server di posta in uscita ok dopodiché ci sono i domini perché anche questo è un aspetto molto importante se voglio utilizzare un mio domini o un domini personalizzato da qui vado a gestire tutti quelli che sono i miei domini all'interno dell'account quindi tutti i domini utilizzati per i miei funnel ok dopodiché c'è anche la possibilità di vedere chi si è disiscritto dalle nostre liste quindi ragazzi questa è la panoramica di clickfunnels molto veloce ma che vi dà un'introduzione di base a quella che è un po' l'interfaccia clickfunnels che come vedete è molto molto semplice intuitiva e veloce se ancora non avete attivato clickfunnels chiaramente ricordatevi della possibilità di attivare una free trial quindi per 14 giorni una prova gratuita che trovate qui sotto al video come link e poi chiaramente ci vediamo nei prossimi video grazie a tutti